The Keyman è un'opportunità unica di entrare assieme nel mondo dei SAP e in una grande azienda. Mi spiego meglio. Questo corso di 200 ore, informazione a distanza, lo possiamo erogare grazie a Garanzia Giovani e quindi destinato a ragazzi under 30, veneti e disoccupati. Durante il corso faremo un escursus di come sono organizzate le grandi aziende in termini di operation e processi e andremo a vedere il passato, il presente e il futuro del gestionale più utilizzato da queste aziende. Poi entreremo nello specifico di alcuni moduli, i più utilizzati, finance, controllo, di gestione, magazzino e quant'altro. Per poi entrare più nel dettaglio della programmazione. Ma non vi spaventate, partiremo esattamente da zero, dalle basi. Che cos'è un database, che cos'è un software e come si scrive del codice. In questo modo la figura che otterremo al termine del corso è una persona in grado di captare le problematiche che ci sono in azienda e riuscire a interfacciarsi con il reparto IT, ad esempio. E quindi sapendo anche quelle che possono essere le nuove tecnologie a disposizione delle aziende per migliorare i processi e i flussi. L'opportunità poi di entrare in azienda verrà, state tranquilli, mediata da un job coach che vi aiuterà a definire bene il vostro CV e troverà la collocazione migliore per voi in modo tale da agevolare quello che è proprio l'inserimento nel mondo del lavoro. Tutto questo perché il mondo dell'informatica e della tecnologia ha avuto un grandissimo sviluppo e c'è davvero tanta richiesta di persone che siano in grado di aprirla propriamente alla digital transformation. Ma c'è qualche ritrosia, qualche difficoltà legata magari a dei pregiudizi che ci rendono difficile l'approccio a queste materie che sono estremamente belle e appassionanti. Quindi siamo orgogliosi di essere stati scelti come docenti per questo corso e non vediamo l'ora di fare qualcosa di grande insieme a te. Se, ripeto, sei un giovane under 30, veneto e disoccupato, manda una mail con il tuo curriculum a courseschiocciolaimgo.live oppure contatto a stagiaire. Grazie!